Il maltempo non dà tregua e dopo i momenti di paura vissuti nel Catanese nei giorni scorsi la Sicilia viene ancora una volta colpita dalle piogge intense e forti venti, ma la paura maggiore riguarda soprattutto i possibili danni causati dall'arrivo di Apollo e il ciclone mediterraneo. La zona è interessata maggiormente dagli effetti della perturbazione, quella della Sicilia sudorientale, dall'avviso regionale diramato dalla protezione civile per il rischio metodo idrogeologico idraulico valido dalle ore 16 del 28 alle ore 24 del 29 ottobre. La zona infatti con livello di allerta rosso per la giornata di venerdì era concentrata nella parte orientale dell'isola e dunque nelle province di Ragusa, Siracusa, Catania e Nemessina, mentre per la provincia di Caltanissetta lo stato era di preallerta e dunque arancione. Attenzione gialla invece nella zona occidentale dell'isola. Le coste su cui si stanno abbattendo le maggiori conseguenze delle piogge abbondanti ed incessanti sono quelle bagnate dalle acque del Mar Ionio, lì dove poco lontano dalla costa si sta concentrando la perturbazione. Ed è proprio nel siracusano che si registrano le criticità con allagamenti e problemi di viabilità. Intanto la macchina dei soccorsi è in movimento e la situazione viene continuamente monitorata dalla sala operativa regionale della protezione civile in collegamento e supporto per i centri coordinamento soccorsi istituiti nelle prefetture delle città maggiormente interessate dal maltempo. Dalla pagina social del Dipartimento regionale di protezione civile si evince che anche delle squadre da Caltanissetta si stavano dirigendo verso Siracusa per supportare quelle di volontari già attive. La cittadina nissena sarebbe quindi lontana dall'occhio del ciclone ma comunque sotto la pioggia, soprattutto nella parte sud della provincia.